eredità dei due airune vediamo un po' se la grafica non è troppo alta così e mi lagga come farei a stare dietro i signori durante la caccia è la tua unica aspettativa per me seguire li supererò e li osserverò mangiare la mia polvere ma per quello mi servirà un buon cavallo e da tanto insisto questa passeggiata perché proprio qui amicizia bella quale albero ok vediamo il cane ah si è allenata va bene andiamo vediamo ah non si corre no dobbiamo camminare per il momento ecco qualcosa che avete in comune non è un buono stomaco nessuno deve essere cattiva forza lion non so che mi troverai una preda non ci sperare troppo andiamo avanti non male vediamo per ora non lagga pare che ce la fa guarda il fiocco di tua madre è ancora qui va bene sì padre la sua vorrei che finisse con noi ma non vuole venire non vuole venire venire i suoi doveri da compiere sei in una famiglia ehi sto cercando di parlare cagnolino non disturbare quanta autorità cavale di rune vai e non tornare a mani vuote bel cagnolone va bene come stavo dicendo tutti abbiamo dei doveri da compiere io devo amministrare questo tua madre deve prendersi cura il tuo fratello mentre tu 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 cosa amicia e non ti vedo quasi male ecco la mamma è vero ascolta ora siamo qui da te quindi via mia seguimi ehi amicia amicia mi piace il nome amicia certamente arrivo questa parte l'avevo già fatta ma la ripetiamo così la vediamo tutti quanti insieme ok la senti attraversare l'ingresso del rito questo me lo è stato piantato dimostrere il tuo valore vabbè ok in cosa consiste la prova le sacre mele del sacro mele sono state corrotte dal grande male ti distruggerai sei mille marce prima che abbia contato fino a dieci farò di te un cavaliere ok ci sono delle pietre laggiù ah ok vediamo un po' prendila guarda qua mani dietro al tronco ok la tieni premuto per mirare con la fionda ok oh ah così ok ah ma è fatto apposta per non farmi vincere no sono io che sono lento ah ho sbagliato ma la tua fionda fa un rumore tremendo ti sei stato per regalarmela oh sì papambe davvero l'ho dimenticato la fai la ognorri non compramme la nuova che succede il cane ha visto qualcosa lion che succede avanti ti raggiungo ci per raccovacciarti ok ok ah qua dovevo iniziare ad avere le visioni di quello ok lion un cracaccio non dovrebbe correre così tanto lion ma dove sei andato non mi ha abbandonato se no come faccio a vedere la preda dove è lion 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 e addio lion ciao lion addio sei fiutato oh oh dimmi che facciamo lo uccidiamo è da vedere uccidare oh di se raggina lei dovrà per un bel banchetto direi ci dobbiamo avvicinare l'erba ti nasconderà ok perfetto così l'erba ti ha visto l'erba ti ha visto oh beccato la prima volta posso fallire in alta carità dinamica te sciacco con la pietra eh estordito oh no 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 non me lo apprendi stasera non si mangia se no non voglio rimanere ancora a digiuno vai ok ti prometto stanotte ceneremo come un re detto una parola famosa ok va bene va bene va bene ok oh la la oh no ci facciamo il giro che schifo non voglio sprofondare là dentro lion sto arrivando aspetta che puzza beh andiamo lion sto arrivando eh eh si lo so che sono pazienza andiamo a prendere il cane vedete che schifo le paludi pieni di zanzare mosche e altri insetti oh oh che è successo qua schifo è il cinghiale ma come non può essere stato lion non ha così poco tempo ridurlo così in una poltiglia oh che schifo c'è qualche animale selvatico lion lion sto arrivando leon sto arrivando leon oh eccolo qua leon che ti è successo dove sei finito che schifo che roba è è un grosso punto nero che ha fatto questo aia oh che schifo poverino che brutta fine che brutta fine che schifo ragazzi inizia il gioco vedete ok organizzerò una battuta a caccia dai da tua madre e dille che devo farle sarà probabilmente guardando a yugo si senza dubbio amicia era un buon cane mi spiace lo so lo so bovino era come un fratello ok trova beatrice negli alloggi di yugo ok gli alloggi dove possono essere gli alloggi vediamo un pochettino direi che la grafica si va bene scusate mi stavo strozzando solo capri madre è pieno di sopra io dico che siamo fortunati di essere in questa casa il piccolo ha avuto un altro dei suoi attacchi ha assolutamente ragione ah già è vero c'era qualcosa di strano con yugo perciò la mamma badava sempre a yugo è vero 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 allora dovrebbe stare di qua ricordo bene si ci sono le scale per andare su nella camera di yugo sì lady beatrice ciao luis hai su mia mamma per caso è proprio la vuoi vedere eh si è importante ordini del papà in questo caso devo finire la tua camera ho lasciato una cosa per te sopra il letto va pure a vedere se ti va dov'è la camera mia scusami è di qua dove stai andando tu fammi dire sì ok cos'è tovaglia è la tovaglietta che madre ha fatto per me quando ero bambina ok grazie magari qualche altra cosa vabbè fa niente fammi bussare la porta va madre madre sono io ho degli ordini del babbo stammi a sentire per una volta lo so che Hugo ho bisogno di te ma anche io c'è il lupo mannaro dentro eccola la madre madre lo sai che non dovresti stare qui lo so ma qualcosa è attaccato lì nella foresta mia cara vorrei davvero avere il tempo di ascoltare le tue avventure ma cavalieri cavalieri altrotto che succede beh pausa vediamo un po' ma è la verità lì è un'era sdraiata a terra ed è stato risucchiato nel terreno da un mostro strano attenzione a tuo fratello cosa che succede chiudi la porta e non apri le finestre qualunque cosa succeda che avete combinato ma Hugo non è contagioso capisco che lo conosce a malapena ma vai tranquilla non preoccupare fidati della mamma amicia fidati ok là là un po' più grande quel chiaristello Hugo sto arrivando posso prendere prima qualcosa no forse aspetta ferma tutte queste pozioni mia madre che ci fa sta tentando di curarlo certo 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 nel fruttempo da quanto tempo 4 anni 5 ok dove è Hugo Hugo ma non ci sta a capitare starà nel castello eccolo là Hugo ciao piccolo Hugo sono tua sorella non ti spaventare anche se non mi conosci Amicia però suona meglio però Amicia dai non ci siamo mai sì molto la mamma torna al resto tranquilla non ti preoccupare muoviti chi è? sentito delle voci strane Hugo ora arriva la parte più difficile dove quattiquattri dobbiamo superare tutte le sentinelle quindi mi raccomando è Hugo ha ucciso due dei nostri uomini ma certo è entrato in casa mia lui dov'è? non lo chiederò di nuovo dov'è tuo figlio? in buone mani in buone mani non ti preoccupare non ho visto sta velo aia oh la 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 perquisite la casa aia ok Hugo sta calmo aspetta mi rilasso pure io uh che ce li capisci che ho fatto aspetta bene ok Z segui vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua oh la la oh la la ok andiamo oh non era un altro là non dobbiamo farci sgamare ria oddio le tattiche quatte quatte non fanno per me lo sapete che sono a quanto confusionario eh stanno a massacrare tutti Hugo non parla al momento è un momento delicato non ci facciamo sentire ok oh la la Louise oh oh ahia aia aspetta l'altro è caduto qualcosa fermi era caduto un giocattolino ai miei figli allora riprendiamo ok ok vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua piano piano passiamo di là tanto questo non ci sente 4-4 meno male queste guardie non sono molto intelligenti oh la la oh no 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 missa dobbiamo continuare dove sono le notte di vostra misura spiegate non mi mi perdere ancora no stiamo qua meno male si sono stupidi non ci guardano attorno oh andate all'altra parte resta ok allora poi cammina tutto il tempo si quattiquatti quando non ci fa quando non ci fa rialzare bene 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 ok possiamo uscire da qua perfetto uh la la eh bene 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 mmm badam addio mamma scusate allergia allergia madre ci sei venuto ad aiutare pensavo ti avessero accoppato non mi ricordavo che veniva la mamma ad aiutarci ma bene 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 che succede che succede andiamo ok ok d'accordo ti seguo andiamo ti sto seguendo ti sto seguendo ok esci dalla casa stanno là segui Beatrice ok mamma ti seguiamo stiamo la mamma mamma dove sei non ti vedo con tutto sto fogliame ah stai là stai là sto piano se no ti perdiamo esci non fa colgo dei rumori che faccia in mezzo ai fiori meno male dai io ti seguo shh shh you go eh dai ah non è il momento di parlare ok ti lascio riflettere tornerò più tardi bene bene mamma mia sono delle guardie proprio super efficienti dai vieni 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 aspetta che passo io ehi aspetta aspettatemi vieni 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 shh you go eh per essere più furtivo tieni premuto premuto contro per lanciare proiettili a mano eh non ce li ho non ce li ho ah ce li ho qua ok no niente non c'è muovo oh ok andiamo a buttarla di qua no qua oh allora proprio qua mi indicavo ok oh no non mi dovevo alzare è vero sto arrivando mi faccio sentire non ti preoccupare per un pelo eh per un pelo come ti fa mai la testa ora no che sto fischio è vero av田 come si è ormai ma non è vero Ah, ok Ok, andiamo Veloce, veloce, veloce Ok, l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta E' chiusa dall'altro lato Mannaggia, mai una gioia Ok Vai, vai, passa dall'altra parte Hugo, si, sto d'accordo Vai Passa nel buco Amicia, sarà la tua mano E tu potrai muerti più veloce Va bene, ok Allora, Hugo può gattonare negli spazi Se ti premi il cube E chiedergli di intrufolarsi Ok, vai Grazie, Hugo Aspettiamo un attimo Dove passiamo? Dove? Ok Mamma, aspetta Ti porto pure Yugo Non correre così veloce Ti sto seguendo Lo so Yugo Ok Oh, che succede? Ah, è la testa Mamma Che cos'ha? Una crisi Ascolta la mia voce Yugo Sai come funziona? Concentri Gli occhi, la testa Mamma Ma fa tutto male Ascolta Respira Pensa a quella nuvola Che respiri La nuvola che respira Dentro Fuori Questa è lenta La nuvola che respira Madre Non possiamo restare qui Dammogli un po' di tempo Ebbene, Yugo Io penso di sì E seguiamo allora Coraggio, tesoro Dai Yugo Vai Vieni Ah, ah Accovacciamoci Mamma, aspetta Dai, Yugo Ci sono dei vasi Laggiù Ok Oh Vasi Ok Ok Forza Provenendo Z Per chiedere Di venire Venite Venite Forza Ok Brava Grazie Ok Sì, sì Ci sto Ci sto Ci sto Aspetta Filma Se mi possono servire Sto arrivando Ok Mi allenavo Ma Avere Da questa parte Sì, ma aspetteremo Che se ne vada Ok Devo correre avanti Siete pronti Quando è di spalle Pronti Ok Vai Fattene Non restare lì Ok Ora Vai L'abbiamo quasi fatta Siamo quasi fuori Tutto è rovino Qua Sì, che siamo ancora vivi Ti Ok Dove dobbiamo andare Risseguiamo Ok Qualche capello bianco Bimbo Amore mio Va a nasconderti Presta Ah Il cavaliere Oh E come ha fatto a sapere Che eravamo qua Adam Amicia Devi portare il tuo fratello Da De Laurentiis Chi è da Sì Che devo portare Il presidente Napoli E tu cosa farai O ex presidente Boh Non lo so Non ho bisogno di te Mamma Non mi lasciare sola Sono Corro una ragazzina Troppo giovane Per fare badare A tutto questo E saltare Ah Scusami Forza Fuggi Doveva sfuggire Eh Stiamo scappando Ah Dovevo correre Basta Oh La lancia Mi blocca Oh Mamma mia Corri Corri Più veloci Certo Più veloce Guarda che sto scappando Aiuto Forza Forza Sai che c'ha famo Dai Mi stanno attaccando Mi stanno attaccando È la vera di Yugo C'è qualcosa nel terreno Sì lo sappiamo Sono mangiato pure a Leon Il cagnolino A suoi ricordi No Forza Non l'hai mai visto Alle vitti Cosa sta succedendo A saperlo E le vedi Non Voi I I I I I I I Grazie.